Attraverso un comunicato ufficiale, il comitato siciliano della LND preseduto dal presidente Sandro Morgana comunica date e dettagli sulla ripartenza dell'eccellenza, ripartenza che però ancora aspetta l'ok del CONI. Si parte l'11 aprile, il girone di andata sarà completato il 23 maggio e dentro il 30 giugno sarà completato tutto il post-regular season. Annullata la Coppa Italia regionale, approvato il format dei quadrangolari, due tra le prime otto e due tra le seconde otto. Per la ripresa degli allenamenti collettivi bisogna aspettare che il CONI dia l'interesse nazionale al campionato. Nessuna retrocessione. Chi non partecipa avrà blocco retrocessione per la stagione 2021-2022. La formula dei quadrangolari sarà denominata pool A per le prime otto, pool B per le seconde otto. Chi vincerà la pool A vola in D, chi vincerà la pool B si aggiudica un premio di 2000 euro. La composizione dei gironi per le prime otto che comincerà il 30 maggio sarà la seguente. Quadrangolare 1, la prima, la terza, la sesta e l'ottava. Quadrangolare 2, la seconda, la quarta, la quinta e la settima. In caso di parità di punti al termine del girone di andata varrà la differenza reti, poi il maggior numero di reti segnate. Al termine delle tre giornate le prime due classificate di ogni girone si sfideranno in una semifinale a gara unica in campo neutro e con eventuali supplementari e rigori. Il 20 giugno ci sarà la finale in campo neutro e con eventuali supplementari e rigori. Per quanto riguarda la pool B, quindi le seconde otto, ecco la composizione dei quadrangolari. Quadrangolare 1, 9, 16, 11 e 14. Quadrangolare 2, 10, 15, 12 e 13. Poi vale la stessa regola della pool A per semifinali e finale.